Il crocifisso non è la fine. Ma si apre sulla resurrezione. La nostra vita è illuminata dalla speranza che noi e tutto il mondo con noi saremo trasformati per essere partecipi della vita coloriosa di Cristo. E allora gridiamo con forza con l'Apostolo Paolo. Siamo tribolati da ogni parte ma non schiacciati. Siamo sconvolti ma non disperati. Perseguitati ma non abbandonati. Colpiti ma non uccisi. Siamo vivi della vita di Cristo. Il volto umano di Cristo è ora il volto glorioso del Padre. Aiutaci a testimoniare questa vita e questa gioia a tutta l'umanità. Il volto umano di Cristo è ora il volto. Il volto umano di Cristo è ora il volto umano di Cristo. Il volto umano di Cristo è ora il volto. Perseguitati ma non uccisi. Grazie a tutti.